Quando partirà l'aereo? Quando arriveremo a Palermo. Sempre le cose in grande, lo zio Freddo. Persino un volo privato. Ma che minchia fai? Adesso mi diverto io, scendi. Cammina! È un peccato, morire in una notte così bella. Va bene, va bene. Ti vuoi divertire un po' con me, prima di uccidermi, è giusto? Basta! Fortunato mi ha detto quanto male hai fatto a Carmela. E atti a chi ti è nevuti. Me l'hai fottuto. Perché io Carmela l'amo! Me la voglio sposare. Alzati! Alzati! Ti ho detto di alzarti! Bastardo! E io li buttare! Carmela! Non sarà mai di nessuno come è stata mia. Perché io sono stato il primo. Carmela! Sono le mie ultime parole, Tonio Fortebracci. E dovrai ascoltarle. Lo sai? Qual è la cosa più divertente di questa storia? Non mi interessa! Credi davvero che ammazzandomi riceverai giustizia? Non mi interessano le minchiate che dici! Sì, è questa la cosa divertente. Non saprai mai qual è il nome della persona che ha ucciso tuo figlio. Quel nome me lo porto nella tomba con me. Addio Fortebracci. Grazie a tutti!